Buona tradizione della famiglia Pozzo che tutto ciò che tocca diventa oro, insomma anche in questo caso sono riusciti a tirare fuori dal nulla praticamente e farla diventare una grande società al Granada con uno stadio già molto bello e moderno e in più a breve ci sarà anche l'inaugurazione della nuova città deportiva un centro sportivo fantastico ai piedi della Sierra Nevada, insomma è anche qui quindi tanto di cappello e si arriva come sempre all'eccellenza. La scelta di questa amichevole è anche un po' per questo, per unire, l'anno scorso siamo andati a Watford quest'anno veniamo qui, è anche un modo un po' di suggerire quello che è anche un buon rapporto tra magari anche le tifoserie speriamo che possano legarsi insieme tra di loro per quello che è un connubio calcistico che poi dà anche frutti perché ci sono giocatori che poi sono cresciuti con le casacche delle varie società. Direi di sì, insomma sono quelle partite che devono essere sicuramente un risultato di tutta questa sinergia di questo lavoro, di questa holding che si sta espandendo sempre di più una holding fatta di tantissimi giocatori, di strutture all'avanguardia e quindi è praticamente d'obbligo anche ogni tanto vederci con le squadre insieme poi ovviamente noi dirigenti giriamo e ci aggiorniamo continuamente in diverse riunioni perché non sono comunque il lavoro da svolgere parecchio e se vuoi fare le cose ben fatte lo devi anche dedicare molto tempo. Direttore, una battuta anche poi più strettamente legata al panorama dell'Udinese perché l'ultimo trasferimento in ordine temporaneo è un trasferimento importante quello di Simone Scuffet che fino a qualche ora fa comunque aveva difeso anche i pali della porta dell'Udinese nella Michele con la Spal adesso si è deciso di mandarlo a giocare una scelta importante anche per la crescita del ragazzo stesso. Direi di sì, insomma abbiamo condiviso con Simone già dalla scorsa estate un certo tipo di percorso. Nella scorsa stagione non ha giocato ma questo lo sapevamo però abbiamo dedicato tutto quanto il tempo possibile alla sua crescita fisica e tecnica e devo dire che obiettivamente l'ho visto davvero migliorato nella testa, nel fisico, nella tecnica quindi già oggi è davvero pronto per fare il grande salto. Di contro teniamo ancora presente che comunque un giocatore del 96 quindi giovanissimo è giusto che muova un ulteriore passo, un certo percorso in una squadra comunque importante di livello in Serie B con l'El Cuomo dove può trovare e troverà sicuramente una piazza importante perché è di grande tradizione calcistica però nello stesso tempo abbastanza tranquilla per poter sviluppare, per poter crescere e cercare di mettere insieme più presenza possibile. Ovviamente nella categoria è un titolare però dobbiamo concedere il fatto che è un 96 quindi possono capitare anche dei piccoli errori ma bisogna avere la pazienza e abbiamo condiviso questo discorso con il Cuomo bisogna avere la pazienza di aspettare, di andare avanti perché il talento c'è, lo abbiamo già visto e toccato da vicino quindi quest'anno sarà per lui un anno sicuramente importante.